Oggi inizieremo proprio la decima prima lezione di questo corso di consacrazione alla madonna e vediamo come quella persona che ha fede non esiste proprio coincidenza, esiste che cosa? Providenza, perché è giusto, sono diverse feste che adesso cadono nella domenica, per esempio nella settimana scorsa abbiamo visto proprio la festa della madonna del rosario, oggi per esempio c'è la festa giusto dell'ultima apparizione della madonna di Fatima e a Fatima la madonna ha promesso una cosa bellissima, che se la madonna racconta a qualcuno in un sogno, facciamo un viaggio a Fatima perché? Perché ha promesso di andare una settima volta lì, no? Speriamo che abbiamo qualche avviso previo per essere presente, no? In questo momento che la madonna passa sei volte a Fatima e ha promesso venire una settima volta e oggi parleremo giusto adesso di continuare a capire che cos'è la vera devozione alla madonna. Nella settimana scorsa abbiamo parlato di due punti, sono cinque punti almeno, quindi abbiamo visto che la devozione alla madonna è una devozione interiore, abbiamo visto che la devozione alla madonna è anche una devozione tenera, che cosa significa questa tenerezza che una persona che è un vero devoto della madonna porta nel suo cuore e oggi abbiamo visto anche che la devozione alla madonna è una devozione santa, ti invita alla santità. Vediamo oggi anche che cos'è una devozione costante. Che cosa significa questa parola? Qualcosa che per noi tante volte è davvero difficile, essere costante nel bene. Purtroppo la costanza viene in noi di difetti. Sono tanti, per tanti anni che seguiamo e cadiamo nello stesso difetto, però vediamo che cos'è una devozione costante e cos'è, che cos'è una devozione desideressata. È un altro brano che leggeremo proprio oggi, però mi piace sempre iniziare raccontando una storia, un fatto bello e noi diciamo che ho pensato proprio oggi che ricordo che ti invita a avere qualcosa vera fede. Ricordo che molto tempo fa c'era diciamo un monaco che viveva proprio in una colla vicino al mare, diciamo in quel mare c'era un bel porto, un porto grande che era lì. Il monaco viveva da solo in una colla, in una piccola chiesa, nella colla, nella montagna. Succede che in questo monaco c'era un crocifisso diciamo in una misura di una persona così fisso grande, di un metro e ottanta più o meno e questo uomo, questo monaco santo dice Gesù tu hai sofferto tanto per noi, no? Io voglio una grazia di te, ti dare la possibilità di io essere con te nella croce per sentire che cos'è diciamo la sofferenza tua nella croce, no? Qualcosa di forte che lui ha chiesto. E succede che Gesù è apparso a lui e dice sì, tu avrà questa grazia di sostituirmi, in certo senso, nella croce. E dici però con una condizione che davanti a tutti gli altri tu devi rimanere zitto, in silenzio, tu non puoi parlare niente. E succede che Gesù è acceso dalla croce, lui è stato proprio lì, soprattutto che le persone quando guardavano la croce vedevano sempre Gesù, non vedevano che era proprio lui che era lì. E lui era proprio lì nella croce. Veniva una persona, faceva la preghiera davanti a lui, lui sentiva, all'inizio tutto bene, no? Succede che in qualche momento la cappella era vuota, arriva un uomo, un uomo diciamo gioioso, no? Portando una busta, una busta così, e ha fatto una preghiera, però più gioioso e più diciamo riposava lì che diciamo pregava. Però era lì. Succede che questo uomo portava una busta piena di soldi, di monete d'oro, no? E l'uomo ha messo la busta vicino. Succede che l'uomo, che è successo lui, ha dimenticato la borsa. Ha dimenticato. E quando l'uomo usciva, lui che era lì, no? Dice, ha pensato, guarda, né? Pensava di dire, tu hai dimenticato la busta, la borsa? Dici, ma deve rimanere zitto, no? E quell'uomo è andato. Qualche minuto dopo arriva un altro uomo, questo posto, triste, pensativo, preoccupato con la sua situazione. E diciamo, si inginocchia, si è vicino, giusto? L'uomo faceva la preghiera a Gesù, diceva, giusto questo signore? Non ho niente, adesso che cosa farò? E quell'uomo guarda così, una busta piena di soldi. E l'uomo, grazie Gesù per dare questa, e ha portato la busta, no? Quando l'uomo usciva, Gesù voleva parlare, dice, questo non è tuo, ma deve rimanere zitto, no? E passa un tempo dopo, viene un terzo uomo per pregare. Soltanto che quell'uomo arriva, comincia a pregare davanti a Gesù, succede che ritorna quel primo, che ha dimenticato la busta, no? E dice, dov'è i miei soldi che era qui? L'uomo, non so niente. Tu come non sai niente? Che cosa tu stai facendo? Tu hai rubato? Dove tu hai nascosto? Cioè, io non ho fatto niente, no? E lui lì, zitto, silenzio, non poteva dire niente. Dice, ah, tu sei un ladro. E chiama il poliziotti. Arrivano i poliziotti lì, per prendere quell'uomo lì, per mettere in carcere quell'uomo lì. E succede che in quel momento che i poliziotti arrivano, dicono, guarda, ho lasciato i miei soldi qui, questo uomo è qui, lui ha sparito, ha nascosto i miei soldi, deve dire. E nel momento che i poliziotti dicono, no, non ho fatto questo. Nel momento che i poliziotti portavano, quell'uomo lì, e lui che era lì, zitto, dice, basta! Dice così, lui non ha rubato niente. E comincia Gesù a parlare. Tutti si spaventano un po', né? Che è successo questo, sì. Dice, lui non è stato il ladro. È l'altro che ha portato quei soldi, no? E succede che dopo quel miracolo, davanti a tutti, che è successo, loro hanno detto così, ah, tu sei libero adesso? E ha liberato quell'uomo perché quell'uomo veniva per pregare, perché voleva fare un viaggio di navi, lungo, e faceva la sua preghiera lì. E' andato. E succede che quando la chiesa era, diciamo, tutta vuota, Gesù, guarda, scende. Ma il signore scende, no? Perché, ecco, che cosa abbiamo combinato? Tu non puoi dire niente. Deve rimanere in silenzio. Ma il signore, come posso io, davanti, diciamo, ingiustizia, rimanere zitto? Vedere un uomo che va in carcere per una cosa che non ha fatto, questo, diciamo, come tu puoi, essendo Gesù, accettare che questo succeda davanti a te. A Gesù, guarda, diciamo, come diceva, anche per gli ebrei, come tu sei lento, no? Diciamo, duro di cuore. E diciamo, ti spiego che cosa è successo. Quel primo uomo che è venuto qui, tutto gioioso, quell'uomo diceva che cosa ha fatto, e portava quei soldi. Quell'uomo diceva, ha accusato una persona, diciamo, ha fatto, diciamo, una trappola, ha falsificato un documento e ha rubato tutto di un uomo. Quel soldi non era suo. Diciamo, ha presentato un processo, diciamo, falso, ha guadagnato e ha preso tutti questi soldi. Ossia, quel soldi non era di quell'uomo. Quel secondo è quell'uomo che lui ha portato tutto. E quel soldi apparteneva a quello secondo. era il suo. Diciamo, tanto che lui ha riconosciuto non soltanto, ha riconosciuto quella busta, quella che era sua e che lui ha consegnato davanti al giudice tutto questo soldi. Dice, il testo uomo, sai che è successo? Quello che sembrava una cosa, una ingiustizia verso questo uomo. Quell'uomo lì è venuto qui per pregare, chiedere a me la protezione per il suo viaggio, per non succedere niente nel viaggio che quell'uomo dovrebbe fare. Succede che, che cosa ho pensato? Era per portare quell'uomo nel poliziotto, nel carabiniero dell'epoca, era per portare lì, quell'uomo passerà tante ore lì, si saprà che lui non è colpevole, però l'uomo vada a perdere la nave, perché questa nave vada a negare, questa nave vada a affondare. E sai che è successo? Questo stesso uomo adesso muore nella nave. Tu pensavi che stava aiutando quell'uomo, io sono Dio, non vedo soltanto il presente, vedo il futuro. Diciamo, tu che hai creato una giustizia, davanti a te quello che tu hai visto, sembrava che tu mettevi in ordine le cose. E tu, diciamo, in certo senso, sei colpevole da morte di quell'uomo, perché io ho preparato tutto, ho creato una difficoltà, affinché questo uomo non potesse prendere quella nave. E questo uomo muore adesso. Dico, perché questa storia? Dico, perché noi, che vediamo le cose vicine, le cose presenti, oggi, ripeto, non è giorno di domandare, ho ripetuto nella settimana scorsa, il perché dei tuoi problemi. E domandare come devo uscire di questo problema. Perché il perché, qualche volta, quando viene la risposta, è molti, molti anni dopo. È come ora ho ricordato, un mosaico che deve avere una distanza per vedere. Se tu sei così vicino, sembrano pezzi di pietra senza senso. Se tu sei allontanato troppo, tu non è che vedi molto. Esiste, per tutti i problemi, una distanza. Giusto che tu riesci a vedere, diciamo, senza, diciamo, quella, diciamo, visione, sbagliata, quando tu sei davvero davanti a qualcosa. Così, per esempio, dobbiamo capire oggi che siamo qui riuniti per pregare, per meditare, per approfondire nella devozione della Madonna, capire questo. Esiste nel cielo, abbiamo un angelo, esiste nel cielo, Dio che ci conosce, ti ha creato, diciamo, voglia il meglio per te. Qualche volta quello che tu pensi che sia adesso, diciamo, un problema, tu chiedi qualcosa, sembra che quello che tu hai chiesto, sembra qualcosa che si è allontanato, tu devi essere una persona a vera fede, dice, è stata una liberazione. Tante volte ho visto una persona, diciamo, padre, voglio conoscere qualche persona, voglio avicinare, e quando presenta la persona assim, mio Dio, tu non sai, signore, perdona, non sai quello che chiede. E dice, quando si prima non conosce l'altro, diciamo, è così appassionato, così, non riesce, non sa che problema trova per si stesso, dopo viene piangendo, dicendo, guarda, questa persona si è allontanata, ho pregato per questo, ho pregato per questo, perché, diciamo, è stata davvero una liberazione, però adesso, per avere una vera fede, chiedere alla Madonna, a Gesù, le vere cose che dovremmo chiedere, dovremmo avere una preghiera che Gesù ha insegnato, nell'Evangelo, preghiera costante. ricordano della vedova che seguiva il giudice, dice, c'era un problema per risolvere, ogni giorno e notte, ogni giorno, si svegliava, suo giudice, camminava nella via, suo giudice, seguiva, gridava, gridava, e lui risponde, Gesù che spiega la parabola, dice, io non sono un uomo giusto, io sono cattivo, ma questa vedova mi tormenta tanto, che io darò quello che mi chiede, pur questa persona non merita, ma io darò per avere che cosa? Pace. Tu sai che i bambini, i tuoi amici, qualche volta i tuoi parenti sono così, attormentano tanto che tu, basta, è tuo, non voglio mai sentire questo. così è la preghiera costante, quello che non finisce, perché quando, diciamo, fa morire, la persona lascia cadere la preghiera, è perché davvero non ha fede, perché se la persona chiede, fa una richiesta costante, non cerca il suo merito, cerca che cosa, diciamo, la certezza che l'altro vada a concedere, dice, il quarto luogo della vera devozione è costante, dice, la rende coraggiosa contro il mondo, le sue usanze, le sue massime, gli dà forza per resistere alla carne, alla passione e al diavolo, ossia, uno è un modo della preghiera essere costante, altro modo che San Luigi presenta è la preghiera desinteressata, mio Dio, questo, tutti noi dovremo meditare, perché che cos'è una preghiera desinteressata, dice, finalmente, la vera devozione alla Santa Vergine è desinteressata, cioè, porta l'anima alla ricerca non di si stessa, ma di Dio solo nella sua Santa Madre, un vero devoto di Maria non serve questa augusta Regina a scopo di guadagno e di interesse, ma per il suo bene temporale ed eterno, corporale e spirituale, ma unicamente perché essa e Dio solo in essa meritano di essere serviti, e viene la frase, diciamo, che è un riassunto, no? Non ama Maria unicamente perché egli abbia fatto del bene o ne speri da essa, ma perché è amabile. Perché amo Maria? Perché Maria è amabile, è degna d'amore, no? Diciamo, non è perché quella frase, quella preghiera che io volevo anche recitare in italiano, però non riesco, di Santa Teresa, che in spagnolo non mi muove, no? Finisce sì, se non avesse cielo, io ti amarebbe, non so se dice così, amerebbe, amerei, amerei, e se non avesse inferno, io ti temerei, perché non è perché tu mi hai promesso il cielo che io ti amo, e non è perché tu parli di un inferno che io ti temo, è perché tu devi essere amata perché sei amabile, e questo timore, no? che parla, non è un timore che è quello che chiamiamo un timore servile, è che ti amo tanto, che è un timore di lasciarla triste, di ti fare triste, questo diciamo è che è il bello timore, timore filiale, che è un figlio che ama così ai padri, alla madre, che il suo grande dolore è lasciare l'altro triste, no? Infine, due punti qui, sono due le profezie che San Luigi parla nel numero 112, se riescono a vedere nel numero 112, lui, lui fa una richiesta per il futuro, ricordo che lui è un profeta, San Luigi Grion di Montfort, perché lui fa riferimento che questo libro, vediamo adesso il punto che lui fa la profezia, che questo libro vada a sparire per più o meno cento anni, e questa profezia qui dice così, nel numero 112, come sarà ben impegnata la mia fatica se questo piccolo scritto, cadendo tra le mani di un'anima gentile e oggi cade, è la mano di ognuno di noi, dice, nata da Dio e da Maria e non dal sangue né da volontà della carne né da volontà dell'uomo, li svelerà e ispirerà con la grazia dello Spirito Santo l'eccellenza e del pregio della vera e solida devorzione alla Santissima Verge che sto per inculcare, ossia lui dice, prego che nel futuro qualcuno trovi questo libro e diffonda questo libro in certo senso per tutto il mondo, no? E dice sì, e così lui ama, c'è una certezza che questo deve succedere nel futuro, parliamo che lui ha vissuto più o meno nell'anno 1700, no? Siamo a 2024, no? Lui dice così, e che cosa posso fare per che questa cosa vada a realizzarsi? Dice, se io che il mio sangue di peccatore, no, se io sapesse che il mio sangue di peccatore potesse servire a far entrare nel cuore le verità che ho scritto in onore della mia cara madre e sovrana padrona, di cui sono l'ultimo dei figli e degli schiavi, invece dell'inchiostro, io mi servirei per formare questi caratteri nella speranza che ho di trovare animi buoni, le quali, per la loro fedeltà alla pratica che io insegno, compenseranno la mia cara madre e padrona delle perdite subite a causa della mia ingratitudine e fedeltà. Io ero disposto a scrivere questo con il mio sangue se questo valesse qualcosa davanti a Dio perché Dio dopo nel futuro trova queste persone che devono mettere in pratica quello che ho detto in questo libro. Dice, Io mi sento più che mai animato a credere e a sperare tutto ciò che ho profondamente impresso nel cuore e che io domando a Dio da parecchi anni cioè che presto o tardi la Santissima Vergine avrà più che mai figli servi e schiavi d'amore e che con questo mezzo Gesù Cristo mio caro Maestro regnerà più che mai nei cuori. Quando San Luigi ha detto questo immaginavo che duecento diciamo e diciassette anni dopo la Madonna apparirà presentando il suo cuore presentando il suo cuore ognuno di noi. Oggi è il giorno diciamo di quel miracolo così grande del miracolo del sole dove la Madonna è apparsa che era più o meno di quaranta mille persone esistono foto di quell'epoca di questo miracolo appresentato il suo cuore immaculato e lui dice così che la Madonna viene preparando i cuori di ognuno di noi e qui viene nel 114 la profezia che ho spiegato dall'inizio che dice prevedo che bestie frementi andranno sulle furie per dilagnare con i loro denti diabolici questo piccolo scritto e colui del quale lo Spirito Santo si servì per scriverlo il demonio vuole distruggere il libro e lui diciamo diceva così sentiva questo e dice se no altro per farlo rimanere nell'oscurità e nel silenzio di un cofano e questo libro è stato per cento anni perso e sai che questo libro il demonio voleva distruggere il libro ha riuscito solo due cose il primo foglio e l'ultimo non l'ho trovato per tutto dentro è rimasto intatto per cento anni quando è stato scoperto hanno aperto ma guarda alcuni più antichi questa è la lettra di San Luigi e hanno scoperto questo libro dopo cento anni e dice così assaliranno e perseguiranno perseguiteranno anche coloro che lo leggeranno mio Dio sta parlando di noi no parla di noi di noi oggi qui sta leggendo non pensi perché tu leggi così le cose non vanno bene o meglio vanno bene ma diciamo perché tu sei protetto però cercano di creare difficoltà per te lo dice assaliranno e perseguiranno anche coloro che lo leggeranno e lo metteranno in pratica questa è la cosa perché leggere il Google legge no però mettere in pratica è un'altra cosa conoscono quel fatto bello che ho raccontato del pappagallo non ho raccontato qui che il pappagallo che nel monastero hanno insegnato il pappagallo a pregare l'Ave Maria e pregava l'Ave Maria diciamo ha imparato il pappagallo una volta è cresciuto le alle così è volato e i monaco cominciavano a seguire questo pappagallo e ogni volta saltavano l'albero e l'altra li seguiva pensando che qualche momento si stancava e lui succede che il pappagallo ha volato e veniva un'aquila per prendere il pappagallo e viene quella velocità che l'aquila viene che soltanto nell'impatto riesce a uccidere qualche animale succede che il pappagallo quando ha visto l'aquila cominciava Ave Maria Ave Maria cominciava a gridare succede che l'aquila diciamo è sbagliato e è caduta e proprio l'aquila che si è distrutta se il pappagallo che non sa niente ma dice Ave Maria salva immaginiamo noi però almeno tu devi pregare devi pregare perché così anche come dice la persona come pappagallo è meglio che non sia però almeno è qualcosa Dio ti promette l'aiuto e dice così ma non importa se diciamo una persona dice meglio così questo pensiero mi incoraggia e mi fa sperare un grande successo ossia lo so che il demonio vado a fare questo creerà una difficoltà passeranno non so quanto tempo ha detto più di cento anni ma quando viene viene e questa è la mia certezza dice avrà un grande successo cioè una grande squadra di bravi e valorosi soldati dell'uno e dell'altro sesso uomo e donna dice per combattere il mondo il diavolo e la natura corrotta nei tempi pericolosi che attraversiamo chi legge comprenda chi può capire capisca ah padre non capisco il problema è suo perché legge comprenda che capisca e capisce e viene adesso dovremo viene entreremo fra poco adesso proprio inizieremo finiremo con questa parte qui la decima prima lezione inizieremo proprio la decima seconda lezione lezione Grazie.